allora oggi è il 10 maggio il compleanno di nonna marcella no che cazzo dico è l'otto maggio il compleanno della marcella il 10 d'agosto è quando nonna è morta ok comunque niente in questo video volevo dire jackie vedi jackie come se sta bene c'è un bellissimo sole 10 maggio 2024 se sta da dio sono sul fiume di cupar il fiume non so come si chiama però sono nella cittadina di cupar nel parco della città e là c'è il fiume ok lo vedi jackie se sta da dio mamma mia che bello ragazzi che bello anzi dite la verità jackie è talmente caldo che mi vorrei mi vorrei levare i pantaloni io adesso sto andando a lavoro per cui non me levo niente poi non c'erò i pantaloncini però così capito la situazione jackie che si sta da dio quindi così